Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Brooks Cascadia 17, una nuova scarpa di Brooks per terreno tecnico, per media corta distanza, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'intera recensione completa. Iniziamo come al solito con qualche dettaglio fornito dalla casa per queste Cascadia 17. Per quanto riguarda la suola troviamo una suola proprietaria di Brooks, ovvero la Green Rubber 3TAC con un tassalolo a 4,5 mm, un'intersuola in DNA Loft V2, per quanto riguarda il drop parliamo di 8 mm, una tomaia molto rinforzata in mesh, il tutto per un peso di 311 grammi nella taglia 42. E adesso come abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito partendo dalla suola di queste Cascadia 17. Come dicevo la suola proprietaria di Brooks è la Green Rubber 3TAC. Per quanto riguarda l'altezza dei millimetri ce la fare una precisazione perché è 4,5 mm d'altezza nel tallone e nell'avampiede. In mezzo invece troviamo un tassello più basso attorno ai 2,5 mm e questo garantisce un'ottima rullata quando andiamo a correre appoggiando prima il tallone e spingendo di punto. Per quanto riguarda la mescola diciamo che va bene ma non benissimo nel senso che tutto quello che è roccia asciutta va da dio, veramente va molto molto bene. Roccia bagnata dipende un attimo che tipo di rocce troviamo perché su alcune tiene su alcune no. Il terreno su cui proprio non tiene è il fango. Questo tipo di tassello non riesce a liberarsi dal fango e vi assicuro che praticamente sarebbe come pattinare sul ghiaccio perché io ho avuto modo di provarlo in una giornata fangosa e vi assicuro sono scivolato parecchio. Quindi diciamo che per tutto quello che è asciutto va veramente molto bene. Quando si inizia a trovare un po' di bagnato questa forse non è la scarpa ideale. In compenso però mi sono piaciute tantissime le geometrie di questa suola per come è stata pensata. Ovvero vedete queste tre scanalature una orizzontale due verticali sono veramente ottimi perché fanno sì che la scarpa si possa torcere e si possa adattare al meglio a ogni tipo di terreno. È una geometria che mi ha veramente sorpreso perché quando andiamo a correre davvero su terreni particolarmente dissestati fa veramente una gran differenza per avere un'ottima aderenza. Quindi davvero una suola molto ben ingegnerizzata. Peccato per il fango. Continuiamo e arriviamo a parlare dell'intersuola come dicevo in materiale DNA Loft V2. Abbiamo un'intersuola che come materiale è quel buon compromesso tra ammortizzazione e reattività. Soprattutto in questo caso mi ha stupito veramente tanto la reattività. Vi assicuro che correrci anche a 4 al chilometro si viaggia che è una bellezza. A livello di ammortizzazione come avete visto in grafica parliamo di 12 mm sull'avampiede e 20 mm sul tallone. Quindi sicuramente non è un'ammortizzazione così elevata poterci fare delle ultra. Però non è una scarpa nata per quello. È nata invece per andare sul tecnico e grazie al trail adapt messo nell'intersuola praticamente a una piastra che corre a tutta lunghezza. Questa fa sì che noi riusciamo davvero ad avere un ottimo controllo del piede anche nei tratti più tecnici. Soprattutto nei tratti tecnici, poi lo vedremo anche parlando del tallone, è veramente molto stabile ed è difficile scavegliare con questa scarpa. Arrivando a parlare della tomaia, iniziamo dal puntale. Qui troviamo un puntale abbastanza rigido. Un puntale che ci protegge comunque molto bene da impatti con rocce o radici. Soprattutto mi piace poi che tutta la parte in gomma del puntale arriva praticamente fino a metà della scarpa in modo tale da proteggerci anche sul laterale nel caso in cui dovessimo prendere dentro qualche roccia. Ci protegge sia il piede sia la tomaia in modo tale che questa non si strappi. Per quanto riguarda la traspirabilità, beh, tanta parte in gomma vuol dire anche meno parte traspirante. Questo vuol dire che la traspirabilità non è sicuramente il suo punto forte. Non è nemmeno malaccio, diciamo, che sta nella media, ecco. È una scarpa col quale se dovessimo andare a correre a climi particolarmente caldi suderemmo. Però per il resto devo dire che è una tomaia col quale secondo me si può andare avanti anche per tanti chilometri perché comunque è bella, strutturata, sicuramente non è una tomaia che si strapperà facilmente. Arrivando a parlare del tallone, qui troviamo un tallone decisamente strutturato che va a destrutturarsi pian piano che sale, ma non così tanto come in altre scarpe. È un tallone che ci dà tanto sostegno, è un tallone che ci dà tanta stabilità. È un tallone pensato veramente per una scarpa che vuole andare anche ad alta quota e su tratti di sfasciume. Quindi è un tallone veramente molto ben progettato e ben strutturato. Per quanto riguarda l'imbottitura, questa è abbastanza, soprattutto è buona per fare anche dei traversi e camminare in obliquo col piede. Per quanto riguarda invece la struttura di lacci e linguetta, beh, struttura abbastanza classica. La linguetta è imbottita e copre bene dalla pressione dei lacci. I lacci si possono nascondere, andare a richiudere all'interno di una fettuccia così che non vadano in giro. Devo dire che da questo punto di vista è una scarpa abbastanza normale. Infine, per quanto riguarda la soletta, questa proprietaria Brooks è il mio, mi ci sono trovato bene. È sostituibile se volete, però io andrei avanti a utilizzarla perché, come dicevo, mi ci sono trovato bene. A livello di calzata stiamo parlando di una scarpa che è abbastanza contenitiva. L'avampiede non è enorme, è abbastanza stretto, ma questo perché vuole essere anche una scarpa precisa per andare su roccia. Quindi diciamo che se avete un avampiede abbastanza generoso dovrete pensare di prendere almeno mezzo numero in più. Per che tipo di corridore consiglio queste Cascadia? Secondo me è per un corridore medio esperto. Un corridore che fa delle distanze medio brevi, anche Sky Race, anche sulle Sky Race ce la vedo molto bene. Ma soprattutto un corridore che va su terreni molto dissestati. Terreni dove troviamo tanta roccia, sfasciume, dove possiamo trovare tante radici. Diciamo che più il terreno è dissestato, più questa scarpa si trova a proprio agio. Per me questa scarpa è veramente perfetta per quelle gare di breve distanza in cui magari si fa salitone con anche tanti metri di dislivello in cui si arriva ad alta quota e poi discesona in cui bisogna spingere e bisogna avere tanta stabilità. Arriviamo alle conclusioni per queste Cascadia 17. Prezzo, vengono vendute da Brux a 170 euro. Online si trova già sui 135 e 140. Ve le consiglio, sì, sì perché comunque io mi ci sono trovato molto bene, soprattutto sull'asciutto, davvero mi sono piaciute tantissimo. Materiali comunque molto duraturi, con anche un occhio alla sostenibilità, che non guasta mai. Quindi sì, io queste Brux ve le consiglio perché davvero mi sono piaciute molto. Detto ciò ragazzi, una speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!